Ottenere la certificazione di denominazione sostenibile, che non vuol dire solo arrivare ad avere una produzione amica dell'ambiente, quanto raggiungere l'obiettivo di una sostenibilità che sia anche sociale ed economica con effetti su tutto il territorio. Il futuro sempre più green del Prosecco Doc passa da qui e da un progetto che mira a testare le condizioni operative per una sostenibilità a 360 gradi. Questo è un percorso che abbiamo iniziato con convinzione e ci rendiamo conto che anche la situazione che si è creata con il Covid ha creato una visione più verso la natura, sulla sostenibilità e ha cresciuto questo interesse. Siamo convinti di essere nella strada giusta. Rispetto di acqua, aria, suolo, sostenibilità economica e sociale sono questi i cardini del progetto denominato proprio dall'acronimo Prosecco. Abbiamo un progetto che come acronimo, guarda caso, si chiama Prosecco, che è quello che ha l'ambizione nostra di arrivare alla certificazione come denominazione. Stiamo lavorando per arrivare a questo in tempi brevi, rapidi e questa certificazione la vogliamo estendere anche alle aziende e al prodotto per arrivare veramente a una certificazione che non sia solo ambientale ma che sia economica, sociale e etica nel vero senso della parola. Una sostenibilità sempre più richiesta dal mercato e dalla popolazione, un elemento che può diventare un volano per i produttori e per il territorio, ma anche una fonte d'orgoglio per tutti gli attori della filiera, dalle amministrazioni alle organizzazioni di categoria, dagli enti di ricerca alle figure professionali del territorio. Questo si aspettano i consumatori, soprattutto quelli più evoluti che danno ormai quella ambientale come un prerequisito ma che richiedono questa sostenibilità etico-sociale e economica.